Il settimanale chi conferma la crisi tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino, pubblicando foto della showgirl argentina in compagnia di Elio Lorenzoni, un imprenditore brisciano Le immagini li ritraggono molto vicini e complici alla festa di Ignazio Moser. La rivista suggerisce che Belen e Elio abbiano instaurato un legame già solido. I due sono stati visti in atteggiamenti intimi, scambiandosi baci, abbracci e teneri gesti d'intesa durante la serata. Dopo la festa, Belen e Elio avrebbero trascorso la notte insieme